Credimi guarda questo video perché se ad oggi hai anche solo una, e dico una persona negativa che ogni volta che hai un progetto, hai un'idea in mente di fare qualcosa ti dice non è possibile, non lo puoi fare, non è cosa giusta e buona questo video è per te perché è ora di farla veramente finita ma prima di spiegarti esattamente come stanno le cose e quello che ti consiglio di fare perché mi ha permesso di ottenere dei risultati grandiosi SIGLA! ok perfetto eccoci qua oggi ho deciso di fare un video di crescita personale che è un argomento che mi piace molto e che ho deciso di affrontare anche all'interno di questo canale ovviamente si basa tutto sulla mia esperienza non sono un esperto in crescita personale e così come avviene per la rubrica della domenica dove parliamo di serie tv piuttosto che documentari, piuttosto che film nei quali vi dico quali sono state quelle sensazioni quali sono state quelle trame, quelle pellicole che mi hanno permesso di ottenere dei risultati piuttosto che rimanere focalizzato anche la crescita personale in questo 2019 e per gli anni futuri occupa un ruolo veramente importante prima di spiegarvi però di quello di cui andremo a parlare oggi due cose fondamentali, la prima iscriviti al canale e la seconda lascia un like sotto questo video ormai se mi segui da un po' sai che queste sono due tappe fondamentali per far crescere questo canale e fare in modo che sempre più persone mi raggiungano e possano vedere questi contenuti che se hanno aiutato te perché non fare in modo che aiutino anche altre persone allora oggi ci troviamo in una sede un po' particolare perché è la taverna dei miei genitori e qui voglio affrontare un argomento molto intimo ecco perché ho scelto questa location diversa dalle altre magari meno formale, più coccola come si dice dalle mie parti ma è proprio perché voglio affrontare un argomento ben specifico e ben importante e che sicuramente stai vivendo anche tu sia che stai guardando questo video per business, marketing, il mio cambiamento o anche semplicemente ti chiedo scusa per i rumori ma è adiacente a una strada molto trafficata come ti stavo appunto dicendo sia che sia un motivo di business piuttosto che di marketing, piuttosto che crescita personale piuttosto perché sei capitato anche per caso su questo video perché magari non stai affrontando un momento molto erosio o hai in mente di portare a termine dei progetti o di iniziarne di nuovi ma ti sei sempre sfidociato allora questo video cade a pennello per te e come ti stavo appunto dicendo ho deciso di trattare questo argomento in una location molto intima quindi un ambiente familiare dove sono cresciuto e dove proprio qui su queste sedie mi sedevo per festeggiare i miei compleanni con i miei amichetti tanti anni fa quindi veramente ho deciso di portarti all'interno di questo mondo questo perché? Perché oggi parliamo delle persone negative ed è un argomento scottante a mio avviso e spesso è troppo sottovalutato le persone negative vuoi non vuoi le incontriamo tutti quindi ti voglio mettere subito in guardia che se ad oggi non hai mai incontrato una persona negativa in realtà sei molto fortunato probabilmente sei invidiato dalle persone che ti circondano ma è solo una questione di fortuna prima o poi incontrerai una persona negativa fa parte del cerchio della vita come direbbe il buon Laura Leone ma a parte gli scherzi fa parte del corso della vita ed è una di quelle cose dalle quali non ti puoi esimere prima o poi incontrerai una persona che ti punterà il dito prima o poi incontrerai una persona che ti giudica prima o poi incontrerai una persona che ti dirà non puoi farcela oppure è tutta una cazzata chiaramente prima o poi la incontrerai quindi se ancora non hai avuto questa fortuna in senso ironico mettiti pure comodo perché prima o poi ti capiterà se invece l'hai già incontrata beh hai già capito di che cosa stiamo trattando le persone negative purtroppo come appunto detto in questo cappello introduttivo le incontriamo tutti quindi non possiamo assolutamente trovare una scorsettoia un modo per fare a meno di trovarle di fare a meno di conoscere di fare a meno di scontrarsi perché è proprio uno scontro e quindi dobbiamo imparare a riconoscerle e quando abbiamo capito come riconoscerle dobbiamo imparare a evitarle questo perché spesso e volentieri le persone negative le persone che ti ricorderanno esattamente che non puoi fare una cosa le incontrerai in sottoforma di prova della vita cioè guarda caso quando tu sei super motivato quando sei super carico quando sei pronto a fare qualcosa sta pur tranquillo che lì arriva la persona che ti dirà ma non puoi farlo ma come pensi di farlo ma dai veramente ma non hai visto che è una cazzata ma Gianni Morandi con uno su mille ce la fa non ti ha insegnato niente ma davvero pensi che tu puoi farcela ma chi sei tu per riuscirci ma guarda che se l'hanno già fatto loro figurati hanno già scoperto tutto ecco queste sono solo alcune delle frasi tipiche che puoi incontrare e puoi sentire le tue orecchie possono dire quando ti scontrerai con una persona negativa voglio metterti bene in guardia perché quando succederai ripeto abbiamo già appurato che non puoi farne assolutamente meno devi metterti nelle condizioni di crearti uno scudo allora questa è un'operazione che richiede tempo e devi riuscire veramente a essere forte e soprattutto devi essere focalizzato su quello che vuoi raggiungere allora un libro che ho letto qualche giorno fa che ho finito di leggere qualche giorno fa che si chiama L'uomo più ricco di Babilonia che tra l'altro a me è stato consigliato e consiglio a tua volta perché mi è piaciuto l'ho divorato in meno di 26 ore veramente l'ho divorato dice proprio questo recita proprio questo adesso prendo qui il cellulare perché leggendo tantissimo da Kindle ho fatto uno screenshot lo so magari tu preferisci leggere da libri piuttosto che io mi trovo molto bene a leggere da Kindle e quindi fatalità eccomi qua dice c'è questa citazione che come vedi ho ritratto che ti leggo che ho salvato prima di realizzare qualcosa deve esserci il desiderio i vostri desideri devono essere forti e ben definiti questa è una cosa molto importante che devi tenere a mente quando incontri le persone negative ora le persone negative puoi incontrarle sotto forma di amici magari sono amici di infanzia colleghi capi parenti è chiaro che più hanno un ruolo importante e fondamentale nella nostra vita più sarà difficile staccarsi dal loro preconcetto e dal loro modo di ragionare ti faccio un esempio se tu adesso vuoi lanciare un nuovo business online o fare un corso che ovviamente magari è costoso è sostanzioso a livello di investimento e quindi ti porta a dover diciamo estrarre questi soldi dalla cassa familiare magari della famiglia piuttosto che dai tuoi risparmi e la persona che è davanti la persona che dall'altra parte ti sta dicendo guarda non credo in te non ne vale la pena o una delle tantissime frasi che ti ho già detto è chiaro che se quella persona è uno sconosciuto non te ne fregherà niente o comunque poco se quella persona magari è la donna della tua vita i tuoi genitori o tua sorella ovviamente potresti risentirti risentirtene un po' perché non ti sentiresti capito non ti risentiresti compreso e finiresti per cedere al loro giudizio e quindi piuttosto che sentirti escluso da un ambiente coccolo da un ambiente che ti ha fino adesso protetto che ha sempre creduto in te finiresti per non fare quella scelta ok quindi capisci che è molto importante capire come combattere le persone negative e poi è chiaro se sono i tuoi genitori se sono i tuoi familiari il tuo marito il tuo fidanzato eccetera chiaramente devi anche capire che ognuno di noi ha il proprio punto di vista e ognuno di noi ovviamente ha le proprie credenze positive o negative che esse siano quindi devi cercare di crearti un involucro e devi avere questo ardente desiderio i vostri desideri devono essere forti e ben definiti allora ben definiti perché chiaramente devi sapere dove vuoi andare ma devono essere forti al giudizio esterno devono essere forti e resistenti per quando ti diranno che non puoi farlo cioè quando ti diranno non puoi farlo è una cavolata tu devi semplicemente pensare nella tua testa bah magari per te per me va benissimo ora nel marketing nella mia professione quando io ho iniziato a fare questo lavoro quando ho deciso di essere un marketer il marketer è spesso visto come una persona che viaggia come una persona che fa la bella vita e nel nostro paese e me ad oggi che registro molti ancora pensano che stare davanti al computer sia fondamentalmente sinonimo di cazzeggiare cioè tu potresti anche progettare il missile che va su Marte e lavorare per Elon Musk e la sua SpaceX ma per una fetta così di persone tu staresti ancora cazzeggiando anzi se ti è capitato perché sicuramente se sei un videomaker un grafico comunque hai a che fare con il computer a lavorare lasciami un commentino qui sotto se ti è capitato e per esempio quando io ho iniziato questa professione molte persone mi hanno detto ma è una cazzata quella roba non ti darà da vivere ma che cavolo fai eccetera eccetera e io però ho sempre tenuto il polso di ferro il polso duro su quello che era il mio obiettivo cioè trasformare questa passione del marketing in un lavoro ce l'ho fatta e ora ovviamente è bello anche incontrare quelle persone che magari non credono in te e adesso vedono i risultati che hai ottenuto e ti dicono ma come hai fatto bravo se io ti ascoltavo quella volta forse non ero dove sono oggi stessa cosa che è capitato col mio percorso personale uscire nel 2019 e dire guarda ragazzi cambio sesso perché x y non sto qua a te diarti perché sul canale c'è già il coming out ed è tutto spiegato nel minimo dettaglio quindi se hai piacere fate un giro che è tutto lì a tua disposizione figurati quali commenti sono arrivati ma sei sicuro di farlo ma quanto soffrirai mio dio che fatica ma è davvero necessario ma non potevi stare così ma chi te lo fa fare quindi capisci bene che quando ti dico persone negative giudizi lasciati così sentenze buttate come se fossero raggi di sole cose del genere so benissimo di che cosa sto parlando ed è per questo che oggi mi sono seduto qui e ho deciso di registrare questo video nel 2019 mi sono dato come obiettivo quello di utilizzare tanto youtube e sono sicuro che avverrà anche per gli anni futuri perché è una piattaforma che mi sta divertendo tanto e mi sta aiutando anche a conoscervi e a farmi conoscere e voglio veramente metterti in guardia sul fatto che se ascolterai il giudizio delle persone e soprattutto se ti circonderai da persone negative sarà sempre più difficile riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi ripeto possono essere in ambito business come nella tua sfera personale come hai visto ti ho fatto un esempio di uno piuttosto che dell'altro io in passato sottovalutavo questo aspetto sono sincero non guardavo tanto delle persone che mi circondavo magari finivo in delle compagnie piuttosto che in altre e mi vivevo un po' la vita diciamo però è veramente una cosa cruciale cioè se tutti i circondi di persone che per esempio si lamentano tutto il giorno dicono che la vita fa schifo sono sempre insoddisfatte hanno mille obiettivi ma non fanno nulla per intraprenderli magari dicono io vorrei cambiare casa però poi stanno tutto il giorno a casa loro a lamentarsi non vanno neanche in cerca non si informano se possono avere magari i mutui non si informano se magari hanno i soldi quali sono le dinamiche eccetera eccetera tu comunque alla fine finisci per rappresentare in parte queste persone c'è questa frase americana che mi piace molto tu sei la media delle cinque persone che frequenti più spesso beh sembra una frase detta così sembra una frase detta a cuore leggero ma in realtà è veramente così se le cinque persone che tu frequenti più spesso sono persone approssimative persone che non hanno obiettivi persone che non hanno ambizioni che non hanno quella forza dentro di loro che gli fa dire oggi mi siedo e studio oggi mi siedo e porto a termine questa attività oggi mi sacrifico non mangio la pizza oggi perché voglio perdere 20 chili ovviamente tu comunque assorberai questo perché quello sarà il tuo ambiente quelle saranno le influenze che ti condizioneranno quando proverai a intraprendere una strada chiaro fermi non è che tutti sogniamo di andare su Marte magari io posso avere un sogno molto ambizioso magari il tuo è ambizioso per il tuo mondo per la tua realtà magari tu hai la tua serie A io ho la mia serie A quindi non devi cercare dei cloni di te ma devi cercare delle persone che quantomeno abbiano a che fare con l'idea di quello che è il tuo sogno la tua realizzazione devi fondamentalmente trovarti dei compagni di viaggio perché se ti circondi di persone negative che si lamentano eccetera eccetera quelli non sono compagni di viaggio sono compagni di disavventure perché quando tu proverai a fare qualcosa ti metterai nel cammino fallirai perché prima o poi anche lì farò magari un video anzi se hai piacere che lo faccia lasci un like un commentino qui sotto parleremo anche del fallimento perché anche quella è una tappa obbligatoria ragazzi in che là non se ne scappa nessuno è chiaro che se sono persone negative quando ti troverai a fallire loro non saranno tra virgolette dalla tua parte o meglio sì saranno lì se sono buoni amici diciamo però ti tireranno giù ti tireranno giù perché vedi se hai incontrato un fallimento e ti senti di dover mollare vuoi mollare una persona che è ambiziosa ti incoraggerà ti spingerà ti spronerà a riprovarci a prenderti anche del tempo per riflettere su che cosa non è andato bene ma cercherà di portarti ad andare avanti una persona negativa ti tirerà giù ti dirà e che cavolo te l'avevo detto ma lo sapevi che andava così lo sapevi che non tutti possono farcela non è come te la raccontano e ti assicuro che in quel momento lì avere queste persone intorno ti porterà ad arrenarti ti porterà a non crederci più ti porterà a dire va bene dai lascio perdere non voglio più farmi male quindi innanzitutto il primo punto è questo scegliti le persone che vuoi avere intorno chiaramente ci sono delle persone che non puoi sceglierti nel bene o nel male quindi non entro nel merito che sia giusto o sbagliato come ad esempio i genitori i parenti eccetera quelle non te le puoi scegliere e se hanno anche un giudizio diverso dal tuo devi comunque tenerli nella tua sfera affettiva e devi fare in modo però che il loro pensiero non intacchi quella che è la tua ambizione se invece sono magari gli amici il gruppo dei pari i colleghi quelli te li puoi anche scegliere puoi scegliere di non frequentare un collega e magari di frequentare un altro puoi scegliere di non andare in discoteca e distruggerti fino alle 5 del mattino se alle 7 hai una prova di esame ok questo puoi scegliere lo rientra nella tua sfera decisionale e quindi lì puoi intervenire ma e questo era lo step 1 il secondo step è nutrire la mente allora una cosa che mi ha insegnato tantissimo il mio mentolo è proprio quello di leggere leggere guardare documentari se tu hai guardato questo canale se stai spulciando se guarderai il mio canale in seguito a questo video noterai subito come io faccia due cose molto importanti la prima ecco perché stavo facendo uno la prima leggo leggo tantissimo cerco sempre di ricordare la mia mente che i limiti in realtà sono solo delle cose fittizie no? cioè anche per colui che voleva andare sulla luna si è sentito dire che era un limite ma ce l'ha fatta ok? quindi i limiti sono sono forse degli ostacoli da saltare come se fossimo in una gara no? non sono dei tetti massimi che puoi raggiungere cioè non è che tu non potrai mai andare sulla luna devi trovare un modo devi avere l'ambizione devi sopportare i giudizi devi fregartene di quello che dicono le persone di quello che ti stanno consigliando di malvagio e cercare una soluzione no? quindi faccio due cose la prima leggo leggo tantissimo manuali ho biografie libri di crescita personale la seconda guardo film e documentari ispirazionali è chiaro che anche io ogni tanto mi guardo la stupidaggine in tv su netflix perché serve anche quella ok? anche io guardo i griffin perché mi fanno morire da ridere però anche banalmente i griffin dietro c'è qualcuno che se ne è fregato di chi gli ha detto che quella cosa non sarebbe mai funzionata che quella cosa non avrebbe mai avuto successo quindi qualsiasi cosa che è di successo anche se è la più frivola dietro c'è sempre il sogno di qualcuno che ha custodito che ha lottato e che ha soprattutto protetto prendiamo un esempio Walt Disney se Walt Disney in quella volta che gli avevo detto amico mio qua non sei creativo vai a casa lui avesse detto vabbè ok si ciao dai non sono creativo non avesse continuato oggi non avremmo tipo 52 capolavori Disney che infanzia avreste avuto J.K. Rowling quella che ha scritto Harry Potter la vita l'ha messa a dura prova tantissime volte non è che lei ha scritto sto libro così e poi l'ha mandato a un editore l'editore l'ha pubblicato c'è voluto tempo ci sono voluti fallimenti ci sono voluti crolli c'è voluto veramente il bisogno di custodire quello che è il proprio sogno quindi la seconda cosa che ti consiglio di fare è nutrire costantemente la mente ora non è il fregarsi nei giudizi degli altri il proteggere il proprio sogno il proteggere il proprio involucro qua la scatola cranica non è una cosa che fai dal giorno alla notte ma questo è un tema di cui ho parlato molto in questo canale onestamente non è una cosa che fai dal giorno alla notte non è che se tu dici basta io da oggi me ne frego domani ce la fai così no quella è la fatta turchina e non è quello di cui ti posso aiutare devi ripetere devi fare le stesse cose costantemente io leggo tutti i giorni magari un giorno leggo mezz'ora un giorno leggo una pagina magari un giorno non leggo due ore però devi cercare di fare azione continua devi essere disciplinato con te stesso sapendo che quelle azioni un bel giorno ti sveglierai ok romanziamola però è così ti sveglierai e capirai che puoi fregartene delle persone ora ti confido è una cosa molto intima molto importante e riguarda molto la mia sfera personale ormai so che mi segui da un po' quindi posso confidarmi quando io ho voluto fare il cammin out sul mio cambio sesso io ho un mio movente dietro non è che mi sono svegliato la mattina e ho detto ma non so cosa fare registro video su youtube e vi racconto cosa faccio ovviamente ho un mio sogno e ho un movente dietro qualcosa che dentro di me qui dentro mi spinge a farlo però guarda ora non c'è qui Sara ma può testimoniare io avevo veramente paura del giudizio delle persone magari ci registro un video anche su questo solo da questo video sono nate veramente tantissime idee però avevo così tanto paura del giudizio delle persone e di perdere i clienti io comunque lavoro in proprio una mia azienda quindi avevo paura di perdere i clienti di perdere comunque anche l'autorevolezza che avevo raggiunto avevo paura che le cose andassero al macello praticamente che mi crollasse il mondo dai miei genitori piuttosto che i miei familiari piuttosto che gli amici la stessa Sara pensavo che non accettasse non comprende lo so adesso che vedo come sono andate le cose mi sembra stupido anche dirlo mi sembra stupido anche solo immaginarlo e sono molto grato di come va la mia vita però non nego quello che è stato e non ti nego di aver avuto tanta paura non è una cosa che dall'oggi al domani ho detto io me ne frego ho dovuto lavorare tantissimo su me stesso ho dovuto capire che veramente anche tutte le persone di successo ma chiunque mi guarda intorno per cercare un riferimento che non sia magari la Disney qualcos'altro ma chiunque anche quella teleta che ha vinto quella coppa lì se ne è dovuto fregare degli aperitivi con gli amici se no non avrebbe vinto quella coppa e se ne è fregato magari dell'ennesimo messaggio ma non fai più festa con noi così è stato e così ho dovuto lavorare su me stesso per poi arrivare a dire al mondo perché poi sappiamo bene come funzionano i social ci sono i pro e i contro ma nel momento in cui fai coming out su un social è meglio di radio scarpa direbbe il mio papà nel senso che arriva a chiunque e mi ricordo per bene il momento in cui ho voluto fare coming out che ero lì così col cellulare dovevo fare pubblica e mi tremavo la mano però poi ho detto ma sai che c'è ma chi se ne frega e quel chi se ne frega è stato sincero è venuto fuori dal cuore ma perché perché ho educato me stesso nel tempo a fregarmene e so che può essere una stupidaggine so che può essere una cosa che puoi sottovalutare adesso ma tu inizia cioè non è che puoi pretendere da te stesso che se per 10 15 20 50 anni hai pensato in un modo hai ragionato in un modo dall'oggi al domani il tuo modo di ragionare il tuo modo di cambiare sia completamente rivisto e sia completamente trasformato questo non può accadere non può accadere devi dargli il tempo quindi ho voluto registrare questo video che tra l'altro spero che ti sia piaciuto e se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale perché è importante capire che le persone di cui ti circondi innanzitutto creano il tuo ambiente e il tuo ambiente deve essere stimolante e che ti spinga verso la tua direzione tu non puoi voler fare ritratti e non avere una luce non avere un angolo dove farli cioè ti devi creare un ambiente non puoi farli con persone che ti dicono che la tua arte fa schifo non la puoi fare perché finirai per convincerti c'è questo modo di dire che non so quando ho sentito ma molto vecchio che me lo porto sempre dietro se una persona dici cento volte sei scemo alla fine quella persona finirà per crederci quindi se tu per cento volte ti senti dire che la tua arte fa schifo alla fine finirai per crederci e non deve accadere devi proteggere i tuoi sogni l'abbiamo già visto tra l'altro ti metto qui la citazione che ho intrapreso dall'uomo più ricco di Babilonia quindi d'ora in avanti proteggi i tuoi sogni fregatene le persone inizia a lavorare su te stesso nutri la tua mente guarda film leggi storie di persone che hanno avuto qualcosa in comune con te e che ce l'hanno fatta concentrati su chi ce la fa e non su chi non ce la fa smetti anche di guardare il telegiornale o diminuisci le volte che lo guardi perché è chiaro che lì parleranno sempre di notizie negative ed è importante se vuoi ottenere dei risultati che anche il semplice fregarsene delle persone devi capire che è possibile devi capire che c'è qualcuno che ce l'ha fatta ognuno al suo tempo magari a te ci vuole una settimana magari a me ci ha voluto un mese a qualcun altro ci vogliono sei mesi l'importante è avere due cose disciplina e costanza nutri la tua mente e ricordati che non c'è solo un modo di vedere le cose non è che se tutti ti devono giudicare tu puoi guardare solo quello guarda quello che ti rende felice e soprattutto mettiti al primo posto queste sono le lezioni che mi hanno permesso di rivoluzionare la mia vita e che mi hanno permesso di alzarmi ogni mattina senza la preoccupazione di cosa dirà questo di cosa dirà quello e ti assicuro che in questi mesi siamo quasi sei mesi di testosterone il mio corpo per esempio è cambiato molto e molte persone mi guardano mi scrutano e io lo percepisco perché guardano i miei cambiamenti guardano se adesso sono sempre più uomo più donna se c'entro qualcosa con la persona che è stata prima lo vedo ti assicuro che non sono paranoia perché mi è anche stato detto devi riuscire a fregartene tu guarda il tuo obiettivo getta la tua strada scrivi la tua strada e vai dritto per quella strada se il video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale ci vediamo nel prossimo video fai il bravo e ciao dale iscriviti al canale iscriviti al canale